Ciao a tutti, in precedenti video avevo parlato, ho cercato un po' di raccontare la storia familiare di Alessandro Manzoni e di Giacomo Leopardi, oggi voglio affrontare un'altra storia familiare molto famosa, per certi aspetti anche famigerata e molto chiacchierata, quella di Giovanni Pascoli. Come tutti sanno la preadolescenza e l'adolescenza di Pascoli fu veramente funestata da una serie incredibili di lutti familiari, a incominciare da quello fondante per certi aspetti, forse anche della sua poetica. Mi riferisco ovviamente all'assassinio del padre Ruggero nel 1867 quando Giovannino aveva 12 anni. Un assassino misterioso, il padre fu infatti ucciso mentre tornava di notte e su cui la famiglia Pascoli ha continuato a indagare e aveva molti dubbi su chi potesse essere stato, lo si capisce andando per esempio a rileggere una delle più famose poesie del Pascoli, La Cavalla Storna. Ma all'ilà di questo aspetto che sarebbe già di per sé interessante ancora oggi indagare, come ho detto seguiranno una serie incredibili di lutti e incominciare appunto l'anno dopo nel 1868 quando verranno a mancare la sorella Margherita e poco dopo anche la madre Caterina. Nel 1871 è quindi la volta di un'altra morte, quello del fratello Luigi e poi nel 1876 la morte di Giacomo, anche questo in situazioni misteriose. Qualcuno infatti sospetta che fosse stato proprio ucciso perché stava continuando a indagare sulla morte del padre. Sia come sia, mentre Giovanni continua i suoi studi che lo porteranno a diventare, come sappiamo prima, professore di latino e greco e poi docente universitario, le due sorelle, le due sorelle più piccole, Ida e Maria, vengono mandate in convento a studiare e in effetti per nove anni Giovanni pare non interessarsene poi troppo. Tutto cambia nel 1882 quando, raggiunto i 18 anni, le due sorelle escono dal convento e vanno proprio a vivere con Giovanni. Da quel momento Giovanni Pascoli quindi cerca di ricrearsi una struttura familiare, il famoso nido, nido protettivo, non riuscendo a creare evidentemente una famiglia ex novo. Insomma, il tentativo ovviamente a livello psicologico è quello di non tradire il nucleo familiare originario creandone uno nuovo, ma cercare appunto di ricostruirla in qualche modo in casa. Molte sono le autorie rispetto a questa situazione. Elio Gianola, grande docente universitario, ha avuto la grande fortuna di seguire durante appunto gli anni della mia università, per esempio sostiene che questo tentativo di accudire sorelle nasca, nascesa, insomma, dà un profondo senso di colpa di Giovanni, non tanto per il fatto di averle abbandonate, quanto perché in realtà a livello interiore Giovanni aveva sempre desiderato da ragazzino la morte del padre e nel momento in cui questa era avvenuta lui incominciò a sentirsi per certi aspetti un parricida. È una teoria che Gianola porta avanti anche per altri attori, in particolar modo Italo Svevo, ma non è l'unica teoria diciamo psicanalitica o psicologica o persino psichiatrica portata avanti su questo ménage a tre. Già nel 1990 il grande critico Cesare Garboli, nello pubblicare le 30 poesie familiari di Pascoli, aveva posto il grande dubbio su un rapporto incestuoso all'interno della famiglia. Questo tema sarà ripreso nel 2006 da un altro importante libro, stavolta proprio di una psichiatrica Vittorino Andreoli, dal titolo I segreti di casa Pascoli. Secondo lo psichiatra infatti in un certo momento Pascoli era riuscito a ricrearsi, come ho detto, questa sorta di nido familiare in cui la sorella più grande Maria faceva, diciamo così, da sposa e la sorella più piccola Ida da figlia di loro due. Ovviamente diciamo che questo non ha nulla a che vedere con l'incesto, stiamo parlando in qualche modo di una ricostruzione assolutamente simbolica di ruoli familiari, ma c'è di più in realtà secondo Andreoli. Nel 1895 infatti Ida, la sorella minore, decide di sposarsi creando quindi una frattura insanabile, creando un dolore enorme proprio a Giovanni Pascoli. Ecco quello che dice il poeta in una lettera alla sorella Maria. No, mia dolce Mariù, non sono sereno. Questo è l'anno terribile, dell'anno terribile, questo è il mese più terribile. Non sono sereno, sono disperato. Io amo disperatamente, angosciosamente la mia famigliola che da 13 anni virtualmente mi sono fatta e che ora si disfa per sempre. Secondo però Andreoli, dietro il matrimonio di Ida in realtà ci sarebbe la mano proprio di Maria, la quale a un certo punto si sarebbe resa conto che il fratello incominciava ad avere un atteggiamento ben più che protettivo, ma decisamente interessato appunto di Giovanni nei confronti della sorella. Insomma Maria sarebbe intervenuta proprio per evitare un possibile rapporto incestuoso e questa volta non a livello psicologico. Insomma secondo Andreoli quindi Maria si era reso conto che i due stavano diciamo per varcare, forse avevano anche già varcato i confini leciti di un amore fraterno e che quindi c'era bisogno di riportare equilibrio e salvare in qualche modo proprio Giovanni. Come mai non cercare di far sposare allora lo stesso Giovanni? Perché in realtà Maria ovviamente voleva tenersi Giovanni per sé, essendo figura assolutamente comunque protettiva. Insomma nel 1895 avviene quindi questa frattura fortemente voluta da Maria, organizzata in qualche modo da Maria. Sarà la fine probabilmente per il povero Giovanni che da quel momento si rifugierà fondamentalmente nell'alcol. Un amore insomma quello di Maria tanto forte quanto appunto mortifero, talmente tanto che appunto Giovanni non uscirà poi più da questo nucleo familiare e pensiamo che alla morte proprio di Giovanni Pascoli la sorella lascerà assolutamente intatta la sua casa, il suo studio, la sua camera, talmente tanto che oggi possiamo andare a visitare casa Pascoli che sembra essersi fermata nel tempo, nel momento esatto in cui Pascoli muore. Giovanni Pascoli muore il 6 aprile 1912 e davvero tutto viene in qualche modo congelato. Ovviamente è difficile dire dove sta la verità, è difficile fare una, come dire, una seduta psichiatrica in contumacia. Sicuramente è una storia affascinante, ricca anche questa, di gossip e altamente drammatica.